Il teatro dei 99 insieme a tutto il suo staff insegnanti sta ponendo in essere nuovi percorsi, nuovi progetti da condividere con voi. In attesa di poterci ritrovare nelle nostre sale studio, sul nostro palcoscenico, pronti per poter condividere nuove emozioni con il nostro pubblico. Lo studio della danza, della musica, del canto e del musical può essere affrontato solo con lezioni dal vivo. Le lezioni delle discipline artistiche sono fatte di emozioni, sguardi, correzioni, perfezione, dinamica, fatica, passione, energia, ritmo, rapporti umani. Tutto ciò non può passare attraverso uno schermo. L'arte parla molte più lingue di quelle che l'uomo abbia mai creato. Così come non l'hai fatto mai. E puoi pensare che domani sarà sempre meglio.